NIS2 è una grossa opportunità per un'associazione come UNEM che rappresenta aziende che sono operatori essenziali, quindi fornire le energie è un servizio, la nostra filiera è una filiera digitale, dobbiamo fare rete per essere tutti più sicuri. Abbiamo già messo in pista diverse azioni, un'occasione come questa che è un'occasione di confronto, ci consente anche di avere come riferimento la politica, NIS2 e la direttiva è stata recepita nei tempi, siamo contenti, c'è tanto lavoro da fare, però sicuramente siamo pronti e vogliamo fare la nostra parte.